Alla Costituente si parla più di una volta dello Statuto del Regno e lo si fa per metterne a nudo anzitutto i limiti di carta costituzionale largita dal sovrano ai sudditi. Carlo Alberto di Savoia la promulgò per lo Stato Sardo il 4 marzo 1848. Solo Benedetto Croce ne loda lo stile di documento redatto in un mese soltanto dalla mano di un unico esperto. E' evidente che la Costituzione della Repubblica, al contrario, non poteva che essere scritta da molte mani. La sovranità passava al popolo. Lo Statuto del Regno era cosa morta, ma era vigente. E' come quando si elabora una nuova legge, ma non è stata ancora approvata, e in cui la vecchia legge mantiene tutto il suo potere. Quindi lo Statuto continuava a essere in vigore. Forse nella speranza dei monarchici e di coloro che pensavano che o l'Assemblea Costituente o il referendum desse la supremazia alla monarchia, c'era la speranza di far rinascere lo Statuto. Magari si sarebbe modificato in qualche sua parte, ma rimaneva lo Statuto. Diversa naturalmente la prospettiva per chi pensava che l'Italia doveva essere repubblicana. Perché a quel punto sarebbe stato assurdo, letteralmente assurdo, mantenere una Costituzione come lo Statuto, elargita dal sovrano ai suoi sudditi. Nello Statuto non si parla mai di cittadini, si parla sempre di sudditi. Quindi c'era un radicale rovesciamento del rapporto tra i cittadini e lo Stato con la Repubblica.